Musica Strage di anziani a Chiaravalle, la procura a caccia del paziente zero. Chi è il paziente zero? Come è entrato il coronavirus nella domus aurea di Chiaravalle per la prima volta e soprattutto quando? Le cronache ufficiali diramate dal Dipartimento regionale tutela della salute e dell'amministrazione della Salus MCSRL, che non combaciano e in diversi punti si contraddicono, portano verso una dipendente della RSA di Chiaravalle, che tra il 26 febbraio e l'8 marzo avrebbe avuto contatti con persone a rischio provenienti dall'Emilia Romagna. Il 22 marzo la donna avrebbe avvisato l'amministrazione della casa di riposo di essere positiva al virus e di non poter andare al lavoro, dice il Dipartimento tutela della salute. Sarebbero stati i carabinieri a notificare sempre il 22 marzo un provvedimento di quarantena domiciliare obbligatoria alla dipendente, specifica una nota del legale della domus aurea Antonello Tallerico. Ma che sia la dipendente di Serra San Bruno la paziente zero è una tesi che non viene accettata supinamente dagli investigatori e dalla procura di Catanzaro che coordina le indagini. Per vederci chiaro, i carabinieri dei NAS che indagano insieme ai militari della compagnia di Soverato, lunedì si sono recati nella struttura ormai deserta per acquisire cartelle cliniche e documenti amministrativi. Le indagini sono ancora in fase embrionale e troppi sono gli interrogativi ancora da chiarire. Se lo chiedono gli investigatori, ma se lo chiedono anche i parenti dei pazienti, è stato dato in tempo l'allarme quando il virus ha dato presenza di sé all'interno della struttura? Le indagini puntano a chiarire come si sia diffuso il contagio, che sarebbe stato rapidissimo. Il 27 marzo, dunque a cinque giorni dal caos o zero, sono stati trovati positivi 48 anziani e 19 operatori della casa di cura. Gli operatori messi in quarantena in una struttura di Catanzaro Lido sono giovani, non presentano sintomi, ma da quanto tempo erano stati contagiati? In tutto nella Domus Aurea lavoravano 48 dipendenti che hanno prestato servizio per settimane, tornando a fine turno nei propri paesi di residenza. Gli anziani, più fragili, il risultato è stato drammatico. 17 morti si contano fino ad oggi, ma soprattutto tra il 30 e il 31 marzo sono morte 7 persone. In 24 ore il virus si è portato via come uno schiocco di dita tra l'ospedale pugliese, dove erano stati portati i casi più gravi e la Domus Aurea 7 vite. Da quanto tempo erano ammalati? Sono risposte che gli inquirenti, al di là delle versioni fornite dalla Salus, amministrata da Domenico De Santis e dal Dipartimento Tutela della Salute, guidato da Antonio Belcastro, cercano di mettere insieme, spulciando le carte cliniche, in attesa di mettere in là i tasselli mancanti ed interrogare tutti i protagonisti di questa vicenda. Il caso Chiaravalle non si discosta da quelli delle case di cura diventate focolaio del virus a Brescia, Bergamo, Milano. Un piano per affrontare la pandemia è mancato in tutto il paese. Al nord solo da pochi giorni si stanno mettendo in sicurezza le strutture per anziani, anche con l'aiuto di medici senza frontiere. Ma che le RSA fossero comunità fragili, capaci di far propagare il contagio in modo velocissimo e congestionare di conseguenza gli ospedali, e la scoperta dell'acqua calda, fatta purtroppo troppo tardi. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Coronavirus, gratteri, detenuti, malati, siano trasferiti in caserme chiuse. Si parla molto di coronavirus nelle carceri. In questo momento ci sono 37 detenuti affetti da Covid-19. Si possono utilizzare le caserme militari chiuse da anni, si possono aprire e i detenuti di Covid possono andare là dentro a scontare la pena. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ridimensiona l'allarme sulla diffusione del coronavirus in carcere durante un'intervista a Di Martedì in onda sulla Sette, così come le preoccupazioni per il sovraffollamento dei penitenziari. È un problema antico quanto il carcere e il sovraffollamento c'è in tutti i paesi d'Europa. Lo si vuole risolvere in modo definitivo? Basta costruire nuove carceri o padiglioni nuovi attaccati alle carceri preesistenti. Ma in questo momento ci sono 1200 posti liberi in Italia che possono essere occupati domani mattina. Ciò che si decide bisogna farlo presto. Non possiamo muoverci al rallentatore. Ogni ritardo vuol dire anche favorire le mafie. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervistato appunto nella trasmissione sulla Sette, ha sollecitato la rapidità degli interventi a sostegno di chi opera nel commercio e che è messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Mafia e Andrangheta fanno usura per rilevare le attività commerciali e per poter così poi fare riciclaggio, ha detto Gratteri, convinto che si debba far presto soprattutto, altrimenti si rivolgeranno agli usurai per gli aiuti ad alcune categorie. Penso a ristoratori e albergatori, i più penalizzati in questo momento, devono avere soldi subito, altrimenti si rivolgeranno agli usurai e perderanno quelle attività e noi perderemo consensi e pezzi di territorio. Le mafie stanno soffrendo come stiamo soffrendo noi, ha osservato tra l'altro il procuratore, ricordando la riduzione del 70% dei reati registrata in questo mese in Italia, come accade anche nel resto del mondo. Le mafie però cercheranno di approfittare dell'emergenza, come fanno sempre, dove ci sono disgrazie. Prendiamo atto della decisione della Regione di non far divulgare più alle ASP calabresi i dati riguardanti il coronavirus e condividiamo il fatto che possa essere controproducente avere informazioni frammentate, ma a questo punto pretendiamo che la Presidente della Giunta regionale dia un'informazione puntuale e aggiornata su numeri e luoghi del contagio e su cosa la Regione stia facendo per contenerlo. Non un semplice bollettino come quello attuale, ma una videoconferenza stampa da tenere almeno tre volte la settimana, con dati specifici riferiti ai singoli comuni e soprattutto con la possibilità di sottoporsi alle domande dei giornalisti. E' quanto dichiara il consigliere regionale Pippo Callipo, capogruppo di Io resto in Calabria, che aggiunge non è possibile che la Presidente della Regione intenda comunicare solo attraverso collegamenti con programmi delle TV nazionali, come quello condotto da Barbara D'Urso, e che invece ai cittadini e ai giornalisti calabresi venga negato il diritto all'informazione. Se si vuole che sia solo la Regione a rendere note le informazioni sull'emergenza Covid-19, lo si faccia fornendo un'informazione completa, che nel rispetto della privacy di ognuno contempli anche dati geografici più precisi di quelli relativi alle aree provinciali e che sia quanto più possibile aggiornata. Se si vuole accertare tutto, specie in un momento come quello attuale, si deve garantire la massima trasparenza. Il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, rende noti i dati delle azioni poste in essere dalla sua amministrazione sul problema coronavirus. Buongiorno. Nel ribadire ancora una volta che la cosa più utile da fare è quella di rimanere in casa, di non uscire, perché questo ci dà la certezza di non contrarre il virus, voglio dare oggi alcuni dati, dati di azioni poste in essere dall'amministrazione. Noi ad oggi abbiamo emesso 107 ordinanze a persone per la messa in quarantena, di cui 5 di queste persone hanno riavuto una nuova ordinanza poiché a tampone effettuato sono risultate positive. Le prime 47 ordinanze sono ordinanze di persone che provenivano da fuori regione. Solo un'azione incisiva da parte dell'amministrazione, nel chiedere gli elenchi alle otoline, nell'andare veramente a cercare tutti quelli che arrivavano nel nostro territorio, immediatamente bloccati e messi tutti in quarantena. 11 ordinanze sono state emesse per sanzioni, che vuol dire persone che venivano trovate sul territorio senza giustificata motivazione. Due ordinanze a cittadini con sintomatologia, risultato poi a tampone effettuato, negative. Non hanno però niente a che fare con la Domus Aurea. Ora invece parliamo del dato Domus. Il dato Domus oggi vede 17 dipendenti con ordinanza di quarantena e 25 contatti, quindi persone che hanno avuto rapporti con i dipendenti, 25 ordinanze di quarantena obbligatoria. Delle 17 ordinanze dei dipendenti, la situazione ad oggi è questa. Se 5 dipendenti risultano positivi e sono presso le proprie residenze, 2 risultano negativi e 10 ancora in attesa. Per quanto riguarda i contatti, abbiamo 5 che risultano positivi, 8 con negatività già certa e 12 in attesa. Che cosa vuol dire in attesa? Vuol dire che ad oggi su disposizione del Presidente Santelli non è più dato sapere a nessuno i dati dei tamponi effettuati, se non quelli che riguardano la positività. Quindi oggi le aziende sanitarie, gli ospedali devono trasmettere questi dati solo ed esclusivamente alla Regione Calabria e nessun altro ha la possibilità di rendere pubblici questi dati. Si potrebbe dare quasi per scontato che non avendo comunicato ad oggi la loro positività dovremmo ritenerli tutti negativi. Oltre a questo dato l'altro dato certo è che abbiamo tre dipendenti che sono presso la struttura di Cadanzaro Lido positivi e una dipendente presso la malattia infettiva di Cadanzaro. In totale quindi noi oggi abbiamo nove dipendenti positivi e cinque contatti positivi. Ecco, vedete questo è un dato in un certo senso che dovrebbe confortare i cittadini di Chiaravalle perché di questi nove dipendenti noi dovremmo già in queste ore avere il secondo tampone per la maggior parte di loro il secondo tampone che dovrebbe attestare la guarigione che è quello che noi auspichiamo e speriamo perché ormai sono passati i 14 giorni le notizie che ci vengono date sentendo personalmente questi dipendenti che non hanno più nessuna sintomatologia ci potrebbe veramente dare per Pasqua questo bellissimo messaggio che il tampone è stato effettuato e che tutti questi nostri concittadini sono guariti. l'altro dato importante è che tutte le azioni iniziali poste in essere dall'amministrazione avevano dato un dato certo quello che Chiaravalle era stata salvaguardata da qualunque contaminazione l'aver bloccato i 47 che venivano da fuori regione l'aver fatto tutti quei protocolli di intesa aver incontrato tutte le attività del territorio l'aver fatto e messo ordinanze per le onoranze funebri aver chiuso il cimitero aver chiuso le piazze aver impedito le attività teatrali qualunque azione aveva avuto un grande risultato che Chiaravalle se non fosse stato per la vicenda di Domus Aurea avrebbe avuto un risultato meraviglioso ad oggi nessun tipo di contaminazione ecco questo è il dato vero di quello che è successo oggi a Chiaravalle grazie coronavirus ferro fratelli d'Italia inaccettabile che il governo non sostenga le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto di mascherine e apparecchiature mediche non è accettabile che il governo dopo aver assunto impegni si rifiuti di sostenere le spese delle regioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e di apparecchi medicali la gestione non può essere nazionale quando si decide di bloccare l'invio del materiale sanitario al sud e diventare locale quando si devono sostenere i costi dell'emergenza e quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Vandaferro appresa la notizia diffusa dall'assessore al bilancio della regione lombardia dell'intenzione della protezione civile di non sostenere le spese effettuate dalle regioni un disimpegno spiega Vandaferro che purtroppo smentisce al netto delle strategie comunicative la reale capacità del governo di supportare il paese reale nella lotta contro il contagio la protezione civile sta raccogliendo le generose donazioni degli italiani proprio per l'acquisto di mascherine e respiratori che però in molte regioni non arrivano le regioni di fronte ai provvedimenti tardivi e confusi del governo si stanno accollando il peso della crisi economica come ha fatto la Calabria che ha investito 150 milioni di euro sulla ripartenza del sistema produttivo non si può però chiedere alle regioni di farsi anche interamente carico con i propri bilanci della risposta sanitaria ad un'emergenza che per quanto riguarda i territori meridionali è in gran parte diretta conseguenza degli esodi del nord favoriti dagli errori comunicativi e dall'incapacità del governo di anticipare gli effetti dei propri provvedimenti conclude così l'onorevole Vandaferro annunciando la richiesta di chiarimenti al governo attraverso un'interrogazione Daniela Maiolo per Teleionio sindaci sanzionati assessore Rotiroti sul piede di guerra pronti a protestare contro chi mette il bastone fra le ruote penso che come assessore del comune di Cardinale sia doveroso esprimere e rivendica Massimo Rotiroti la mia piena vicinanza al mio sindaco Danilo Stagliano e dai sindaci sanzionati perché preoccupati della salute dei loro cittadini un atto vergognoso far pagare i primi cittadini durante la funzione del loro servizio al popolo vuol dire mettersi contro un intero paese spero che la giustizia usi il buonsenso prima di far pagare ai sindaci questa sanzione sono sicuro che se necessario sia io che gli altri amministratori saremo pronti a protestare contro chi mette il bastone fra le ruote contro i nostri sindaci infine come membro del coordinamento regionale ANCI giovani auspico l'aiuto dell'associazione nazionale comuni italiani rappresentata dal vice presidente Francesco Candia e dal coordinatore regionale giovani Marco Porcaro da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio Cardinale caso verbale il movimento io partecipo si schiera con il sindaco orgogliosi di chi combatte per noi nonostante non godano delle luci della ribalta i sindaci specialmente nelle piccole comunità sono il filo conduttore dell'intero tessuto sociale sempre e comunque in prima fila a tutela dei propri concittadini e quanto sostiene il movimento civico io partecipo di Cardinale che prende posizione a favore degli amministratori locali amministrare nelle piccole realtà con sempre meno mezzi a disposizione rileva il gruppo diventa ogni giorno più difficile lo è ancora di più in un contesto storico come quello che stiamo vivendo con i piccoli amministratori impegnati in una lotta in pari soli contro il mostro invisibile ma determinati a difendere la propria comunità con ogni mezzo tu caro sindaco Danilo Stagliano in questi giorni così drammatici per la comunità del comprensorio hai combattuto e combatti per ciascuno di noi l'obiettivo è quello di trasmettere tutta la nostra vicinanza e far emergere che siamo fieri di essere rappresentati da una persona come te che ha sempre pensato a tutti come esseri umani e mai come semplici e freddi numeri la tua vicinanza insiste il movimento non ci ha mai fatti sentire soli anche quando i grandi della politica ci hanno abbandonati dimostrando tutta la loro inadeguatezza tu hai continuato a lottare oltre ogni umana fatica perché fossero riconosciute le più basilari norme dell'assistenza umana in una sola ma quanto mai significativa parola grazie per la persona ed il sindaco speciale che sei alla luce degli ultimi avvenimenti conclude il movimento esprimiamo totale solidarietà a te e a tutti i sindaci del comprensorio che si sono visti protagonisti di una vicenda surreale con forza evidenziamo altresì lo sdegno per un'azione che mortifica il lavoro che i sindaci svolgono ogni giorno per i ruoli cittadini in particolare negli ultimi mesi se le istituzioni più alte vi hanno lasciati da soli più forte di sempre sarà la nostra vicinanza verso chi con spirito di abnegazione e sacrificio rappresenta le nostre comunità per Teleionio Anna Maria Colabraro Riace Trifoli si difende indennità destinata ad acquisto cibo per i poveri l'aumento della mia indennità è stato destinato per questo mese all'acquisto aggiuntivo di derrate alimentari anche a beneficio dei tanti immigrati che sono stati abbandonati dalle associazioni di accoglienza una volta finiti i soldi statali e lasciati al loro destino così il sindaco di Riace Antonino Trifoli risponde alle polemiche suscitate dalla delibera con la quale lo scorso 11 marzo la sua giunta aveva proceduto ad un adeguamento delle indennità di primo cittadino e assessori la delibera aggiunge il sindaco è chiara si tratta dell'applicazione di un articolo della legge finanziaria il costo maggiore è a totale carico dello Stato lo spirito è stato di riconoscere il duro lavoro dei sindaci e degli assessori dei piccoli comuni l'aumento dice ancora si poteva applicare in automatico la delibera non era obbligatoria ma lo abbiamo fatto per maggiore trasparenza il primo cittadino di Riace successore di Domenico Lucano conosciuto per il modello di accoglienza dei migranti adottato dal centro del Regino contrattacca rispetto a quanto sostenuto dalla minoranza consigliare che si è interessato alla situazione del dissesto economico Maurizio Cimino dice che per anni è stato vice sindaco con delega al bilancio appare paradossale è stato proprio lui a contribuire attivamente a far raggiungere un debito quantificabile in 4 milioni di euro ed era proprio lui che di fatto gestiva un'associazione di accoglienza che ha gestito migliaia di euro e che ha lasciato sull'astrico tanti operatori che oggi non hanno cosa a mangiare Trifoli sottolinea l'impegno della sua giunta nell'emergenza coronavirus l'assessore Teresa Gervasi in particolare dice da volontario della Croce Rossa italiana si spende ogni giorno per far fronte alle necessità dei cittadini non abbiamo mai visto Cimino e diciamo muovere un dito in tutta l'emergenza coronavirus il sindaco rende anche noto che la giunta ha dato mandato ad un legale di querelare Francesco Di Lieto presidente regionale del Codacons ed aver consegnato alla procura della Repubblica di Locri gli atti con cui il direttore di una pseudotestata giornalistica locale avrebbe incassato a nome di RecoSol dice quasi 150.000 euro per la gestione dei profughi a Riace senza mai rendicontare forse per questo conclude vi è accanimento mediatico e diffamatorio contro la mia persona e tutta l'amministrazione comunale per Tele Ionio Anna Maria Colabraro la reazione dell'avvocato Francesco Di Lieto vice presidente nazionale del Codacons Calabria alla notizia della querela da parte del sindaco di Riace ho appreso della decisione del sindaco di Riace di querelarmi francamente non capisco il motivo visto che è lui stesso ad ammettere che effettivamente hanno aumentato le indennità di carica di sindaco e assessore per quanto mi riguarda continuo a pensare che in questo preciso momento quell'aumento sia stato inappropriato e inopportuno e certo a giudicare dalla reazione scomposta del sindaco sembra che lo abbia compreso perfino lui quindi attenzione quella data dal Codacons non era una notizia falsa ma una notizia vera autorevolmente confermata proprio dal sindaco ciò che ha dato fastidio è che qualcuno abbia osato raccontarla qualcuno abbia osato chiedere di ripensarci ad una scelta che riteniamo sia indelicata in questo preciso momento ma di questo avremo modo e tempo per discutere in tribunale quello che è imbarazzante oltre che avvilente che un rappresentante delle istituzioni si faccia veicolo di minacce finalizzate a mettere il bavaglio spiace dover sottolineare come nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria ed economica dove ci sono tantissime famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo o la cena dove non riescono a pagare le bollette della luce la giunta si riunisca per sperperare danaro pubblico per querelarmi evidentemente il sindaco per distogliere l'attenzione da questa vicenda non ha trovato di meglio che scendere al torpiloquio fino a definirmi uno pseudo avvocato e questo a prescindere dalle offese personali caro sindaco denota una pochezza di argomenti e il disperato tentativo di buttarla in cacciara la pezza poi che il sindaco ha trovato per coprire questa indennità forse è peggiore del buco nel senso che il sindaco ha dichiarato che queste somme aggiuntive che andranno a percepire lui e i suoi assessori saranno devolute in beneficenza ricordo a me stesso che la beneficenza si fa di tasca propria non con i fondi del ministerio ma di questo ripeto avremo modo di discutere in altre sedi nessuno stava mettendo in discussione la legittimità dell'aumento quello che si chiedeva è un passo indietro proprio perché è indelicato ripeto mentre si chiedono ai cittadini sacrifici che ci sia qualche amministratore che decida di aumentarsi lo stipendio caro sindaco le offese quando sono volgari come in questo caso gratuite si pongono in antitesi con un modo da agire da persone adulte e in questo periodo un amministratore dovrebbe evitare comportamenti da ragazzino e urlare minacce o insulti sui social se a lei preoccupa l'attività del Codacons stia tranquillo noi continueremo a evidenziare tutto quello che non va nella nostra Calabria per il resto ne discuteremo in tribunale ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco e sentiamo uno stralcio dell'intervista realizzata dal nostro collaboratore Fabio Guarna al dottore Raffaele Mancini l'intervista integrale subito dopo il nostro TG bene siamo con Raffaele Mancini un saluto facciamo informazione oggi un'informazione tecnica e lo intervistiamo facciamo una chiacchierata con lui in veste di responsabile dell'ASP di Catanzaro per l'unità operativa di diapetologia e ha anche esperienza noi lo conosciamo qui anche su Soverato News su Teleione lo conosciamo come sindaco di Soverato come politico ma naturalmente oggi diciamo questa esperienza è comunque sempre utile anche in questo caso però comunque in questo caso parliamo con il tecnico Mancini allora Dottore Mancini senta lei ha fatto anche un comunicato interessante che riguarda un po' questa emergenza Covid ecco le prime osservazioni che può fare che magari possono essere interessanti per il nostro territorio e più in generale per il territorio calabrese quali sono? Una cosa importante è stata fatta in Calabria e ben recepita cioè quello di effettuare tutte le azioni di distanziamento sociale tant'è vero che l'epidemia è molto contenuta però c'è un altro passo a mio avviso da fare immediatamente per spiegarlo bene è che tutti devono usare le mascherine perché se tutti hanno una mascherina il contagio è molto difficile che vada avanti per cui queste manovre semplici come dotare tutta la popolazione di mascherine come stanno facendo in alcune regioni come per esempio nel Veneto dove penso che l'emergenza sia stata gestita oggettivamente meglio rispetto alle altre regioni potrebbe essere una prima mossa importantissima perché noi dobbiamo pure pensare che non possiamo stare chiusi a vita dunque deve riniziare la socialità la ripresa sarà graduale dunque l'utilizzo delle mascherine da parte di tutti può essere sicuramente un sistema anzi è un sistema fondamentale senta però lei ha parlato che siamo stati fortunati fino a questo momento fortunati fortunati perché l'epidemia è giunta in ritardo al sud purtroppo per i ritorni dei calabresi in fuga dal nord però è arrivato in ritardo noi avevamo già l'esperienza delle altre regioni in particolare la tragica esperienza lombarda per cui questo ci ha permesso di adottare le misure di isolamento vero e proprio e ben affatto la regione ad emanare tutte queste ordinanze anche a decretare aree rosse forse anche in modo eccessivo per l'usoverato probabilmente è stata eccessivamente individuata come area rossa però sicuramente la prudenza non è mai troppa in queste situazioni visto il vicino focolaio di Chiara Valle che c'è stato senta le criticità secondo lei che ci sono di più qui in Calabria in questo momento sicuramente le case di cura è un'esperienza di tutto Mediglia è stata la prima esperienza lombarda sono state esperienze nel Lazio ma bisogna agire seriamente anche perché chi lavora nelle case di cura non è che sono tanto medici o infermieri professionali quanti os cioè praticamente gli ex ausiliari che non hanno una formazione medica importante allora la bisogna controllare a tappeto pure perché è una legge dell'epidemiologia della medicina in generale tutte le epidemie si diffondono di più nelle case di cura e nelle caserme in genere proprio perché luoghi chiusi proprio perché il virus staziona un po' di più anche nell'aria nei luoghi chiusi mentre nei luoghi aperti questo stazionamento è irrilevante per cui queste azioni vanno fatte covid-19 nuovi posti letto per gli ospedali di Serra e di Tropea firmato all'ASPE di Vibo Valencia il contratto di appalto dei lavori per la realizzazione di ulteriori dieci posti letto di lungodeggenza all'interno del presidio ospedaliero di Serra San Bruno in seguito in seguito a procedura di gara aperta espletata dalla sua provinciale i lavori sono stati affidati ad una ditta con sede a Vibo Valencia si tratta di un'opera importante per l'ospedale di Serra San Bruno grazie alla quale sarà possibile dare una maggiore attenzione agli anziani che necessitano di assistenza continua e costante ha dichiarato il commissario dell'ASPE di Vibo Valencia Giuseppe Giuliano sul fronte emergenza coronavirus invece l'ASPE di Vibo ha attivato uno screening su tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nell'emergenza sempre sul fronte coronavirus il commissario ha poi disposto l'assegnazione di due letti di terapia subintensiva di ultimissima generazione per gli ospedali di Tropea e di Serra San Bruno per Teleionio Anna Maria Colabraro il gruppo consigliare di minoranza chiede l'istituzione di una commissione consigliare per la gestione dei buoni spesa emergenza coronavirus relativamente alla gestione dei buoni spesa emergenza coronavirus il gruppo consigliare di minoranza impegno e solidarietà Montepaone con lettere indirizzata al sindaco COC centro protezione civile segretario generale ha chiesto le istituzioni di una commissione ad hoc per gestione fondi nella missiva i consiglieri comunali Saverio Candelieri Umberto Fulginiti Francesco Geragio e Roberto Totino evidenziano che in data 29 marzo 2020 è stato varato DPCM per sostenere i comuni in questa fase di gravissima emergenza sanitaria data dalla diffusione del virus covid-19 la forma di sostegno si legge pensata dal governo si concretizza in anticipazione di una cifra pari a 4 miliardi e 3 in favore dei comuni promanante dal CD fondo di solidarietà comunale ripartito fra i comuni in relazione al gettito effettivo del limo e della Tasi alla cifra di cui sopra si va ad aggiungere con ordinanza della protezione civile del 29 marzo 2020 una somma pari a 400 milioni per erogazione di buoni pasto beni alimentari nonché farmaci per i soggetti che versano in condizioni di disagio economico la cifra di cui dispone il comune di Montepaone secondo allegato alla summenzionata ordinanza è pari 44.589 euro è in capo all'ente comunale la gestione della predetta cifra con statuizione dei modi e delle forme è sicuramente essenziale e necessario porre al centro l'interesse dell'intera comunità montepaonese in particolare delle fasce più deboli degli indigenti siano a colori quali godono solamente di piccole forme di assistenza provenienti dallo Stato esempio reddito di cittadinanza indenni tanaspi eccetera eccetera in questa precisa fase più che mai è essenziale operare scelte democratiche e condivise nell'ottica di una fattiva e proficua collaborazione fra tutte le parti politiche interessate e coinvolte pertanto si chiede che venga istituita una commissione consigliare ad hoc per la gestione delle risorse di cui dispone il comune di Montepaone onde meglio assicurare risposte soddisfagenti alle molteplici esigenze di carattere alimentare e sanitario dei nostri concittadini sicuro di un celere positivo riscontro e concedendo termine come da previsioni statutarie regolamentarie normative per l'adempimento di quanto richiesto il sindaco di cosenza condannato per danno erariale di 262 mila euro la corte dei conti della calabria ha condannato il sindaco di cosenza mario occhiuto e altri componenti della sua passata amministrazione alcuni dei quali transitati anche in quella attuale a risarcire il comune per danno erariale i fatti si riferiscono a una serie di spese effettuate tra il 2011 e il 2015 documentate da specifiche delipere su questi atti la procura della corte dei conti ha dato mandato di indagine al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di cosenza nello specifico occhiuto è stato condannato a pagare la somma di 262 mila 868 virgola 46 euro rosaria succurro carmine vizza e francesco de ciccio tutti e tre assessori in carica luciano vigna ex assessore e attuale capo di gabinetto del presidente della regione Iole Santelli e Nicola Maierà ex assessore al pagamento di 19.918 virgola 88 euro ciascuno ad essere condannati sono stati anche alcuni dirigenti comunali in carica all'epoca dei fatti Giampiero Gargano 19.918 virgola 88 euro lucio sconza 57.060 virgola 82 euro e Ugo Dattis 19.918 euro gli amministratori del comune di Cosenza scrivono i giudici in palese violazione dei doveri di servizio che impongono scelte improntate a criteri di ragionevolezza e prudenza hanno deciso di ricorrere a personale esterno per costituire l'ufficio del sindaco sebbene fossero consapevoli della presenza di numeroso personale interno peraltro dichiarato in esubero Daniela Maiolo per Teleionio coronavirus in quarantena ma si sposta in altro comune per lavoro denunciato 25enne nel Vibonese false attestazioni a pubblico ufficiale questo è il reato per il quale la squadra volante del commissariato di polizia di Serra San Bruno nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Vibo Valencia per il contenimento della diffusione del covid-19 è stato deferito un giovane di 25 anni residente a Soriano Calabro all'atto del controllo nel comune di Gerocarne il giovane ha esibito l'autodichiarazione che giustificava lo spostamento in un altro comune per motivi di lavoro dagli accertamenti immediatamente effettuati dalla polizia è però emerso che la persona controllata era sottoposta alla misura della quarantena obbligatoria disposta con ordinanza del comune da cui proveniva fino al giorno 6 aprile circostanza poi confermata dallo stesso 25enne pertanto al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa ed è stato denunciato alla procura di Vibo per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale da Carlo Elisabeth Taverna per Teleionio famiglie bisognose il Rotary Club Catanzaro Tre Colli dona 140 pacchi di cibo un pensiero per 140 famiglie bisognose del catanzarese autore del gesto speciale è il Rotary Club Catanzaro Tre Colli sono stati distribuiti tramite le parrocchie della città di Catanzaro il numero delle richieste di aiuto è in aumento soprattutto in questi mesi e quest'azione rappresenta una preziosa testimonianza di vicinanza un semplice gesto di amicizia fatto dai rotariani per essere vicini alle famiglie in difficoltà per far sentire loro il calore della Santa Pasqua un'espressione di solidarietà della comunità verso le persone che hanno bisogno e nel nostro territorio non sono poche un impegno corale che vuol testimoniare l'attenzione a società e territorio si tratta di un grande gesto di solidarietà che sicuramente sarà apprezzato da tutti da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio Inseguimento e sparatoria sulla 106 il responsabile ha anche provato ad investire un carabiniere L'applicazione delle norme dello Stato di diritto e l'emergenza Covid-19 hanno fatto sì che ST l'uomo di Isola Caporizzuto che qualche giorno fa è rimasto ferito dopo l'inseguimento con i carabinieri in fuga sulla statale 106 che da Botricello porta a Cutro sia stato denunciato a piede libero a poco è valso il fatto che non solo l'uomo non si sia fermato all'alte dei carabinieri che li abbia costretti ad inseguirlo e a farsi sparare alle ruote dell'auto che sia risultato positivo alla cocaina e che fingendo di fermarsi in una stazione di servizio in realtà poi abbia puntato nella direzione di uno dei militari provando ad investirlo l'uomo oggi è solo una persona denunciata a piede libero il padre dell'uomo fu ucciso a Natale del 2005 a colpi di Lupara fu attirato in una trappola e in quel 24 dicembre qualcuno gli ha scaricato addosso il piombo di un'arma lasciando l'agonizzante in un'auto i familiari furono poi coinvolti nel 2014 nell'operazione Zarina Aurora che decapitò una delle consorterie vicine alla cosca di Indrangheta Arena Nicosia di Isola Caporizzuto per Teleionio Anna Maria Colabbraro i carabinieri hanno scoperto un macellaio che abbandonava illecitamente rifiuti i carabinieri della stazione di Stilo hanno deferito alla procura della Repubblica di Locri un 39enne di Bivongi per gestioni illecite e abbandono di rifiuti il differimento scaturisce da un'attività di indagine avviata dai carabinieri allorquando nei giorni scorsi nel corso di un servizio perlustrativo attirati dal cattivo odore hanno accertato la presenza di una vera e propria discarica abusiva incontrata con la Ciuri a Bivongi tra la vegetazione i militari hanno scorto un ingente cumulo di scarti animali alcuni dei quali in avanzato stato di decomposizione il sopralluogo ha consentito di raccogliere preziosi elementi grazie ai quali è stato possibile risalire all'intera filiera agroalimentare e di accertare le responsabilità dell'ultimo anello della catena identificato in SL titolare di una macelleria di stilo il commerciante già noto alle forze dell'ordine dovrà rispondere di gestione e abbandono illecito di rifiuti da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio Grazie a tutti Grazie a tutti.